Sì Mario, con me c'è l'onorevole Danilo Toninelli che si occupa di riforma elettorale e proprio sta partecipando alla riunione del Comitato di Nove. Allora, come stanno andando questi lavori, onorevole? Li continuano a spostare in avanti, è evidente che sia l'ennesima presa in giro dei cittadini, anzi mi permetto di dire che se fosse un cittadino fuori dal Parlamento prenderei a calci nel sedere sia Renzi che Berlusconi. Lo farei per due motivi, il primo è perché il Parlamento non ha avuto e non ha nessun ruolo nella stesura di questa legge ed è una legge fondamentale per la libertà democratica di tutti i cittadini. E secondo perché è evidente che gli accordi che vengono tutti da fuori sono finalizzati a far del male al Movimento 5 Stelle e a permettere che vinca o il centro-sinistra o il centro-destra. Se a ciò aggiungiamo che dalle simulazioni che abbiamo avuto pochi giorni fa, cioè parametrare questa pessima legge con le elezioni precedenti, esce che il voto di un elettore non conta nulla, cioè non va ad eleggere il partito, il candidato per cui è andato a votare al seggio, diciamo che veramente peggior cosa non si poteva fare. Lei faceva riferimento poco fa fuori dalla diretta a 600 emendamenti che devono essere valutati anche per quanto riguarda l'amissibilità, ma mi diceva che rischiano di essere vanificati questi emendamenti. Sembra notizia di pochi istanti fa che Berlusconi, cioè l'altro condannato che insieme al primo condannato hanno scritto questa legge fuori dal Parlamento, abbia accettato l'emendamento da Torro, ovvero sia abbia limitato l'italicum esclusivamente alla Camera. Cioè da domani se passasse questa legge avremo due leggi differenti, cioè l'ingovernabilità pura, alla faccia della coerenza di Renzi che fino a ieri ha ripetuto in tutte le sedi, abbiamo bisogno di una legge che la sera stessa delle elezioni dia un vincitore. Questa legge darà due vincitori differenti. Sentoci anche la polemica nata dalle dimissioni del sottosegretario Gentile, Grillo oggi chiede che a seguire questo esempio siano anche i quattro sottosegretari del PD. Mi sembra un passaggio ovvio e doveroso, io le ricordo una cosa che lei certamente sa, ossia che la Costituzione dice che chiunque ricopre incarichi pubblici lo deve fare con onore. Chiunque in questo caso eletti, se parla di quattro segretari, sono sottoposti a dei procedimenti in qualità di indagati, evidentemente qualche domanda devono rispondere e probabilmente, anzi certamente, un passo indietro lo devono fare. E il passo indietro che ha fatto Gentile deve essere il passo che devono fare anche gli altri quattro. Sento solo una battuta, ma in una risposta telegrafica a questa ipotesi di Costituzione di un gruppo parlamentare al Senato dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. È evidente che questo passaggio dimostra come siano distanti queste persone dalle DNA del Movimento 5 Stelle. Le faccio un semplice esempio. Loro hanno contestato due fatti che per noi sono cardine, ovvero sia l'impeachment a Napolitano e la ghigliottina della Boldrini. Secondo noi queste sono due violazioni delle regole democratiche e costituzionali. Il momento stesso in cui loro hanno detto che noi siamo contro il Movimento 5 Stelle in questi due punti, è una testimonianza che non c'entra nulla con noi e quindi vadano a creare un altro gruppo, sicuramente qualcosa che si distanzia, ripeto, dal nostro DNA. Grazie a Danilo Toninari, se non hai domande Mario ti restituiamo la linea. Grazie, grazie Roberto, se ci sono tante le notizie...